Le temperature più miti, anche in mezzo al mare, spingono un numero ancora maggiore di disperati a tentare la sorte sfidando le correnti del Mediterraneo su piccole imbarcazioni. Giungeranno nel porto di Brindisi domenica mattina altri 200 migranti salvati nel canale di Sicilia dall'ONG Open Arms. Si tratta di donne, uomini e molti bambini provenienti da vari paesi dell'Africa e che sono stati raccolti in mezzo al mare, mentre vagavano su barche troppo piccole e troppo cariche per poter sperare di raggiungere vivi la meta. Si tratta del secondo approdo nel porto di Brindisi per la nave dell'organizzazione governativa spagnola. Il primo è avvenuto il 9 luglio scorso, quando furono sbarcati 299 migranti ed è la quinta volta dall'inizio dell'anno che Brindisi viene scelta come destinazione finale per le operazioni di salvataggio. La macchina, coordinata dalla prefettura, sta lavorando per mettere in piedi un sistema organizzativo comunque già ampiamente erodato, che vede protagonisti, donne e uomini delle forze dell'ordine, degli enti di assistenza e della protezione civile. L'attracco dovrebbe avvenire, come accaduto meno di un mese fa, alla banchina di Santa Pollinare davanti al capannone ex Montecatini. L'unico dubbio è costituito dalle condizioni meteomarine che dovranno essere compatibili con uno sbarco in totale sicurezza. I migranti, una volta sottoposti i controlli medici di routine, saranno trasferiti nelle destinazioni già loro assegnate, ad esclusione dei minori non accompagnati.